Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come settare al meglio le impostazioni grafiche per OBS Studio nel 2024 il primo di gennaio e vi auguro anche un buon anno. Quindi in questo caso andiamo un attimo nelle impostazioni su uscite, io ovviamente ho una 1660 Super scheda grafica Nvidia più un Ryzen 5 3600, stiamo ancora con una fascia abbastanza buona. Io ovviamente ho questi componenti da ormai 3 anni, quindi vado ancora bene per registrare e fare dirette. Quindi ovviamente se andiamo un attimo su registrazioni, perché dopo faremo il settaggio delle dirette, quindi su registrazione i migliori settaggi sono il tipo di controllo della frequenza CQP. Ovviamente io registravo con CBR, però certe volte andava anche a scatti, andava a scatti quando si trattava dei caricamenti delle applicazioni sul disco. Quindi in questo caso se tu registri con OBS Studio un gioco, questo gioco sta facendo caricamenti sul disco, andrà a scatti, la registrazione andrà a scatti. Non è che andrà molto bene. Tipo di controllo io metto CQP, livello di quantificazione costante metti 15, intervallo dei fotogrammi chiave in secondi 0, preset qualità, profilo high. Scatavideo 0, biframe, massimi 2. Ovviamente qui c'è scritto riscala all'uscita, io ho un monitor Dell 1920x1080, quindi Full HD, la mia scheda video può registrare, se ci riesce, fino a 1440p. E io ovviamente registro in Full HD 1920x1080. Quindi una volta finito così la registrazione, me lo esporterà in Full HD, in questa risoluzione. Però tu qua puoi modificare le tue risoluzioni. Ovviamente per modificare le risoluzioni basta che vai su Video. Risoluzione di base inquadratura. Io inquadro così lo schermo 1920x1080. Risoluzione effettiva di uscita scalata 1920x1080. Quindi in questo caso questa parte qua è che quando finisci di registrare, te lo esporta in questa risoluzione. E tu puoi esportarla come vuoi. Valore FPS con numero intero. Questi sono gli FPS. Ovviamente c'è chi vuole registrare con una qualità ottimale, ma ha problemi con delle prestazioni. Quindi tu al posto di 60 FPS puoi mettere 30. E registrare in Full HD. Quindi se adesso faccio applica, faccio ok. Come puoi vedere il cursore del mouse nello schermo di OBS Studio, proprio in questo punto qua, come puoi vedere, si vede che sta proprio laggando a 30 FPS, però la qualità è buonissima. Se vado a fare avvia la registrazione, faccio così, termina la registrazione e vado direttamente sui video di OBS. Eccolo qua. Fare avvia la registrazione. Quindi. Trazione. Come puoi vedere, la freccia sta proprio laggando, non si vede neanche bene. Se adesso vado sulle impostazioni, proprietà, dettagli, 1920x1080, quindi come ho detto, la qualità è buonissima, ma la frequenza dei fotogrammi è sui 30 FPS. Quindi, impostazioni, io ritorno ai 60 FPS. Ok. E qua si impostano i 60 FPS. Invece, per quelli che vogliono registrare nella modalità semplice, velocità in bit video, 4000 kbps, queste sono per le dirette, e registrazioni, invece, non te lo segna neanche. Tu proprio registri proprio come hai il PC. Quindi, se tu hai un portatile del 2000, facciamo caso, uno ha un portatile del 2010, usa OBS e te lo registra proprio come, con quelle prestazioni. Formato di registrazione, MKV, questa, mettete questa qua, qualità della registrazione, la stessa della diretta. Questa qua, 4000 kbps. Quindi, se volete una buona qualità, e avete un PC abbastanza buono, metti 3000. Se hai un PC molto buono, e anche costoso, metti 6000. Lo farà sia per le dirette, che per le registrazioni. Formato di registrazione, MKV, e fai applica. Io, ovviamente, quando registro, faccio sempre avanzate. E oggi, sono stato costretto a registrare con GeForce Experience, perché, se no, non potevo fare queste modifiche su OBS. Quindi, se io adesso vado a registrare, avvia la registrazione, registro un po' lo schermo, prendo un'icona del desktop, me lo registra proprio come lo sto usando il PC. Come sto usando il PC, perfettamente. E faccio termine alla registrazione. Quindi, sulle registrazioni, CQP, livello di quantificazione, 15. Oh, ovviamente, queste sono le impostazioni, però se vuoi puoi anche diminuire il 15 e metterlo sul 10. E fare applica. CQP metti CBR, velocità in bit, 2500 kilobit. Quindi, è come sulle dirette. La qualità, più sono alti kilobit, meno si vedono quei quadratini sullo schermo. I pixel, bitrate, quelli proprio che non riesci proprio a mettere, proprio allineata l'immagine nel video. No, si vede tipo a cubetti, tanti cubetti. Quindi, se tu metti 4000 kilobit, stai certo che registrerai molto bene. Ovviamente, rimango con il CQP, che mi trovo molto bene. E faccio applica. Preset, qualità, prestazioni, massime prestazioni. Qui ci sono... Allora, qua potete fare tutto voi riguardo a smanettarci un po' sopra e vedere qual è meglio per il vostro computer. Quindi, non posso mettere a confronto con il mio PC, con un altro PC sui 300€, un portatile che sta usando OBS Studio. Quindi, questa è proprio una cosa che dovete vedere voi. Però, se volete, mettete massime prestazioni, profilo height. Schietta video 0, biframe massimi 2. Qualità. Ovviamente, più la qualità è alta, più il contenuto è pesante. E faccio applica. Poi, per le dirette, invece... Dirette, eccolo qua. Ora, qui per le dirette dipende tutto dalla connessione. Quindi, velocità in bit. Ora che mi hanno potenziato la rete, io posso pure impostare 6.000 kilobit al secondo. Che a noi interessano di più l'upload. Per gli upload a me è molto, molto alta. Anche attraverso il cavo LAN. Comunque, se tu fai le dirette con il cavo LAN inserito al PC, non avrai problemi di connessione. Io sulla velocità in bit, sulle dirette, metto 6.000 kilobit al secondo. Tipo di controllo della frequenza CBR. Potrei mettere di nuovo CQP, ma io sulle dirette metto tipo di controllo di frequenza CBR. Per modificare così la velocità in bit e non far vedere quei cubetti nelle live, che si deve vedere proprio benissimo. Quindi, se si vede bene, avete anche una buona connessione, mettete 6.000 kilobit. Se no, mettete 4.500 kilobit. Intervallo dei fotogrammi chiave 2, preset qualità, profilo height, scheda video GPU 0, biframe massimi 2. E fai applica. Quindi, per le dirette, queste sono le migliori impostazioni sulla codifica NVIDIA. Lo stesso anche per le registrazioni sulla codifica NVIDIA. A me è NVIDIA, metto questo qua. Se invece avete Intel, mettete Intel. Quindi, queste sono le migliori impostazioni per settare al meglio su OBS Studio. Quindi, per non avere sempre problemi di lag, come ho detto all'inizio, quando provi a registrare un gioco che sta sempre a caricare, per esempio, questo gioco consiglia un SSD, ma tu hai il gioco sull'hard disk, sicuramente, quando andrai a registrare, farà veramente un sacco di scatti sulla modalità CBR. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lasciate like, se hai altri problemi, commenta sotto al video e io ti aiuterò a modificare meglio le impostazioni su OBS Studio. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. E buon anno a tutti! Grazie a tutti!